Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4 Un gameplay che appunto ci sta piacendo un sacco, comunque voi vi siete affezionati alla nostra Martina e al nostro Alex E la nostra Martina si è appena svegliata, si sta facendo diciamo le sue cosine nel bagnetto, nel suo bagno privato E ragazzi guardate un po', abbiamo la pastella avariata, quindi andiamo, proviamo più che altro a fare qualcosa usando la pastella Oddio qua bisogna ripulire, no non ripuliamo che magari mi diventa un po' a disagio per lo sporco, sarebbe carino Potrebbe diventarlo perché lei è ordinata, quindi magari un po', oddio raga, ma noi facciamo, posso fare una cosa? Opzioni di giochio, un giochio, un giochio, no no, sbagliai, modalità di gioco, passaggio di età, no Ok, togliamo il passaggio di età raga perché la nostra Martina mi sta crescendo a vista d'occhio e non voglio Dato che abbiamo ancora da fare un sacco di cose raga, questa settimana esce la nuova espansione E quindi capirete come vi introdurrò alla nuova espansione O comunque, allora, parliamone subito dai, su via, parliamone, parliamone Allora, intanto andiamo a cucinare Adatto e vegetale, ok, per usare la pastella? Dove la usiamo? Cucina? Eccolo qua Eccolo qua, signori, facciamo un gaufro con banana splint Proviamoci a fare e speriamo che esca di qualità scarsa Allora, signori, io ho intenzione di continuare a giocare con questo gameplay Un gameplay, come dire... Oh, fatto il livello 5 di cucina, tra l'altro Toast francese, fish and chips Anche, oh, finalmente alta cucina, competenze culinarie E lo stato umorale e competenze culinari Speriamo che mi esca, ragazzi, qualcosa di scalso Ve prego, ve prego Intanto, facciamo Dicevo, come ci andremo a inserire all'interno della nuova espansione Allora, ragazzi, io voglio continuare a giocare in maniera libera Quindi la nostra Martina non subirà grandi cambiamenti Se non, magari, le faremo un makeover Fatemi sapere, ovviamente, se questa cosa vi piace Lei è molto bella, però, secondo me, un makeover con tutte le nuove parti del CAS Del Crea un Sim, della nuova espansione potrebbe essere molto interessante Ehm... Detto questo Amica, tu che mi segui E amico, tu che mi segui Lei, oggi farà qualcosa Succederà qualcosa Che ci porterà, magari, a trasferirci Why not a Tomarang? E anche questo, scrivetemi nei commenti Se questa cosa vi può far piacere Qualità scadente, raga Raccogliamo gaufre Raccogliamolo, sto gaufre E poi ne facciamo, magari, qualcun altro Allora, voi mi avete detto di fare il tiramisù Cucina Vediamo se Mi fa fare un tiramisù Oh, ma qui cosa abbiamo? Senza lattosio Frutti di mare Dolci Olè Oh, ma io questa cosa non l'avevo mai vista, raga Guardate quante cose possiamo fare Torta C'abbiamo la pastella, raga Torta bianca Ehm... Ciurros Bisco... Torta mirtili selvatici No, io voglio usare la pastella Torta al cocco Cupcake Cannaffè Torta di fragole Torta di lamponi Adorabile Torta al cioccolato Cupcake con effervescenza di fragole Adorabile Toast francese Raga, il tiramisù ancora non lo possiamo fare Ancora non lo possiamo fare Facciamo... Scusate A livello... Una torta... No Ehm... Dobbiamo venderla tutta insieme Quindi proviamo a fare una torta di fragole Ehm... Una torta zombie Proviamo a farla Così la vendiamo, raga E proviamo a far sto cavolo Io lo voglio portare a termine questa aspirazione Quindi anche se dovesse arrivare la nuova espansione Cioè anche quando arriverà la nuova espansione Noi comunque Ehm... Lo faremo Noi comunque ci proveremo Ci proveremo Ehm... A completare questa aspirazione Magari le... Perché ci saranno 4 nuove aspirazioni Le 4 nuove aspirazioni potremmo Vederle con qualcun altro E capirete con chi Oggi forse sarà una puntata anche abbastanza lunga, raga Perché voglio fare un po' di robe Qualità scadente Non è scarsa È scadente, ama Proviamoci Io ce provo, raga Ehm... Magari poi andiamo nuovamente Ehm... Possiamo fare anche tipo Cucinare una pizza con qualcosa Una pizza con pancetta canadese Adorabile No, proviamo a fare un altro scadente Ehm... Gaufre con... Gaufre con pancetta e mela A livello 5 Facciamolo Visto che ci troviamo Anche cottura al forno Lei sta aumentando Credo In questo momento Cucina Dov'è cottura al forno? Non c'è... Lei non ha ancora cottura Sì che ce l'ha cottura al forno Ama Forza Guardate Oh girl Povera Scadente Raga ma Lui mi chiede Scarsa Ma scadente Secondo voi È scarsa? No Secondo me No Sinceramente No Però vabbè Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Proveremo a vendere La qualsiasi raga A questo punto Ma in tutto questo Il nostro Alex Dove stai? Ama Basta dormire Anche se sono ancora le 9 e mezza Te lo puoi ancora permettere Fai la doccia Però Diamogli un po' di vita Cosa vuole fare lei? Fai romanzia con Ernesto Cobalto In effetti i genitori dovrebbero partecipare un po' di più Alla vita Cioè Ora voi direte amo Ma come l'altra volta ci lamentavamo del fatto che sono Troppo presenti Hai ragione Ma sono presenti non in maniera attiva Sono presenti perché ci rompono le palle Non sono presenti perché li facciamo giocare con noi E quindi questa cosa un po' mi disp Un po' mi disp Raccogliamo gaufre Raccogliamo le gaufre Lo mettiamo nell'imentario Dobbiamo fare 500 simole Allora raga mi fate capire Se abbiamo Apri qualcosa da vendere Ma si ama Eccellente E ce le amo Portiamo qui e proviamo a vendere Che te devo di Che te devo di Allora Ama Andiamo Oggi Ti voglio qua Vai qua Dai Su via E' autunno Ma quanto manca raga Oh girl Mancano 4 giorni all'inverno Quindi andremo a Tomarang Con l'inverno Qui c'è un Salim Ben Ali Scusate Ma io ho bisogno di Fare delle robe con lui Tratta freddamente No romantico Intimità fisica Stringi Why not Ama Dove sei? Eccola Ho sentito Ho sentito che le magliette del Vedi Cioè io neanche Faccio in tempo A parlare Colloca nello scenario Olè Apri Amo Prima di tutto Dobbiamo fare Le robe scadenti Che sono queste Olè Mettiamo anche qua Esamo A questo punto Inizia la vendita di cibo Amo Guarda qua Cosa ti Ah non ci ha messo questo Ma vabbè Scusate Aumenta i prezzi Voi mi avete proposto Di mettere al 300% Io l'ho fatto Eh raga Vediamo ora Se la gente arriva Qui ci abbiamo Scadente 84 36 Secondo me Raga Vedete questo Qui 84 A pezzo Però secondo me Vediamo se arriva qualcuno Allò Disattiva Colloca l'elettrodomestico Non sono presenti elettrodomestici Amo Dai No ma dai Su via Ci proviamo Guardate che bella luce che c'è Favolosa Favolosa Eccola qui La nostra Martina Cobalto Ma quanto mi piace questa simmina ragazzi Secondo me sta arrivando lei Kyra Joyson Non so chi sia Facciamo finta di Ciao Kyra Joyson Pronuncio un discorso da venditore Presentazione Amichevole Oh c'è il nostro padre No Non è il nostro padre Ciao amo Allora innanzitutto Amo Eh sì La torta scadente Tutto Tutta vita Cominci a comprare Gaufre Con pancetta E mela Magari Se lo compra tutto Raga Allora Già che noi facciamo Se noi riusciamo a fare Queste 500 simoleon Già Io sono più che contento C'è un salim benali Ragazzi C'è un salim benali Con cui noi Abbiamo iniziato Ora ad andare d'accordo Nel senso che Non era iniziata benissimo Ed è 84 Se l'hai comprata tutta Fatemi capire Non ho capito molto bene Adorabile Pronuncio un discorso da venditori E pronuncio un discorso da venditori Raga Secondo me Questo qui Sarà molto difficile da fare Perché 84 Io ho rincarato del tutto Allora O se la comprano tutta La torta E ci riproviamo Però scarsa Raga Questa qualità scarsa Io non riesco A capire Scusate Io voglio provare A fare una cosa Se io metto Nell'inventario di lui Una pastel Pastel De nat Ok Sono riuscito No Vorrei mettere Nell'inventario di lui Perché non me lo fa mettere Non me lo fa mettere Vabbè Boh Proviamo a fare con lui Cucina Una gaufra con bacche Vediamo se lui fa magari qualcosa di Come dire Cosa sta facendo No Comincia a comprare Stanno comprando In realtà Pronuncio un discorso da venditori Quanto abbiamo venduto finora 196 Cioè se lui riuscisse In qualche modo A farmi Una Una roba Sta lavorando Secondo voi Forse si Se lui riuscisse a farmi Una roba scarsa La vendiamo poi con lei Cioè non è importante Che l'abbia fatto Ma lei che balla No vabbè Adorabile Adorabile Comunque questo episodio Finirà con un colpo di scena Raga Puoi capire Uh Akira Kibo Bellino Vabbè Basta però Parlare con Arumbi Damo Qua ci abbiamo dei venditori Convince a comprare Qualità scadente Gaufra con Banana Split Proviamoci Miko Hajo No Sì Miko Hojo Gli Arjo Sono quelli di Vita Da liceali Ce l'ha fatta? E il resto come altro Sta chiamando Vuoi rispondere Ok Amo Secondo me Non ce la facciamo E' proprio difficile Raga Secondo me Devo fare Eppure ho fatto Una torta intera 232 Ma secondo me Non riusciamo 316 Forse in realtà Si Apri Riusciamo a mettere Questo No Deve finire qualcosa Secondo me Aumenta i prezzi Ah ma dai Vediamo se ce la facciamo Pronuncio un discorso Da venditori Basta parlare Fai qualcosa Amo Devi assolutamente Farcela Con questa Aspirazione Cioè io ci tengo Che lei faccia Questa aspirazione Oh la la L'abbiamo fatto Raga Qualcuno si è comprato L'inter Oh Gesù Giuseppe Maria Oh L'abbiamo fatto Raga Perché qualcuno Si è preso Più di 500 Simoleon Di roba Oh Fai risorgere Un fantasma Vendendo Ambrosia Guadagna 10.000 Simoleon Completando Vendite di cibo Vendi un pasto A 300 Simoleon Ai 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 Allora per ora Abbiamo fatto 1500 Dobbiamo vendere L'ambrosia Ad un fantasma Tra l'altro Raga Ma come cavolo si fa Raggiungi livello 10 Di alta cucina E cucina casalinga Quindi procurati gli ingredienti richiesti per cucinare l'ambrosia Un fiore della morte Un pesce angelo E una pozione della giovinezza Clicca su qualsiasi frigorifero e cucina Ambrosia Sì credici Allora Io vi dico già Per me Faccio questi due E ho completato l'aspirazione Raga L'ambrosia sinceramente non è una cosa Che voglio Come dire Fare Che voglio vendere Cioè Ci vuole troppo raga E non lo possiamo fare in gameplay Finiremmo per Per fare solo ed esclusivamente quello E questa cosa mi dispiace Sinceramente Quindi Completiamo questi due Fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate Ma credo che sarete Diciamo D'accordo con me Pennypizzaz ha bisogno di un makeover Magari Io lo facciamo con la nuova espansione Why not Dato che lo dobbiamo fare a lei Lo facciamo anche a Pennypizzaz Why not E raga Tra l'altro Vi dico che Praticamente Arrivando a questa nuova espansione Io voglio Completare Voglio migliorare I miei I file di salvataggio Voglio iniziare Un file di salvataggio Che sia Quello Vero e proprio E pian piano Magari rilasciarvelo Anche a voi Fatemi sapere cosa ne pensate Io credo che con questo Con questa espansione Arriveremo ad un punto Dove ogni Diciamo Ogni quartiere Avrà Il suo La sua palazzina Avrà i suoi appartamenti Ci saranno Dei proprietari Appunto Di questi appartamenti Potremmo mettere Più famiglie Nello stesso lotto Quindi anche Far ritornare Un po' di famiglie Dal passato Nel mio file di salvataggio Why not Amo Io convincerei Lui a comprare La pizza Dai Proviamoci Perlomeno Sarebbe carino Sarebbe carino E poi Dobbiamo fare Un'ultima cosa Prima di lasciarci Ragazzi Come diciamo Finale Di questa Prima stagione Di questo gameplay Perché oggettivamente Raga Siamo al 14esimo episodio Uscirà la nuova espansione Ricomincerò Ovviamente Dall'episodio 1 Cominci a comprare Amo Io vorrei Convincerti a comprare Però lo devi fare Ad un certo punto Qui abbiamo Pochi soldi Dobbiamo Ecco Lei ora si concentrerà Per fare questa aspirazione Lei si concentrerà Nello studiare Cucina E alta cucina Io ci voglio provare Vorrei farla arrivare Tipo a livello 10 Nel frattempo Qui Scusate Io Libera il tavolo Libera il tavolo Ah Si sta per finire Vabbè Si finiamolo Ce l'abbiamo fatta comunque Quindi anche qualità scadente Va bene Oggi abbiamo guadagnato Mille simoleon Ragazzi Devo dire la verità Veramente bene Veramente Veramente bene Metti nell'inventario E ragazzi Chiamiamo Dov'è Il nostro Fidanzato Faiz Jalil In vita Nell'otto attuale E poi Torniamo a casa Raga Sta arrivando Lui Ovviamente Quando siamo qui Raga Siamo in casa In realtà Qui c'è una Eccolo Eccolo Faiz Jalil Parla del matrimonio Ebbene si ragazzi Mentre lui Nel frattempo Accetta di passare Del tempo insieme Loro Loro stanno parlando Di matrimonio Adorabile E lui ci sta E raga Propone un piano folle Facciamo Flerta Intimità fisica Bacio suave Ora lo farà Martina Ma voi immaginatevi Che è lui Ovviamente Che chiede A lei Ragazzi Di andare a vivere Insieme Ebbene si Il nostro Faiz Jalil Chiederà Alla nostra Martina Finally Tanto sono fidanzati Raga Di andare a vivere Insieme Conversazione profonda Per l'appunto E poi Abbraccia affettuosamente E poi ragazzi Romantico Vediamo un po' Non è Non dobbiamo farlo Da qui Clert Affetto Occhi di un appuntamento Dichiara l'amore pubblicamente Professore amore eterno Dai le chiavi dell'appartamento Vediamo un attimo Dove ragazzi Però Chiacchiera Forse Oddio Non lo so ragazzi Da dove si fa? Rivela un segreto recondito Azioni Amichevole secondo me ragazzi Pensini profondi Conversazione Chiedi generale Chiedi a Faze No Raga Da dove Minchia rola si fa Ma Vabbè Facciamo che diamo le chiavi Dell'appartamento Raga Non so Da dove si chiede Ad un sim Di andare a vivere insieme Posso dire Mi sembra Assurdo A me dispiace Ma a me questo Questa roba Proprio non ce la posso fare Bacio appassionato Dove Dove cavolo si fa? Altre scelte Ecco Chiedi di venirti all'unità familiare Era molto più semplice Di quello che pensassimo Raga Alex Sì Alex Faiz E Martina Andranno a vivere insieme A Tomarang Quindi Adorò Adorò Con 20.000 Simoleon Ebbene si Raga Ebbene si Andranno con 20.000 Simoleon Andranno loro due Andiamo a vedere anche Faiz Jalil Che ha Vai ad appuntamenti Anima gemella Ma questa aspirazione Durerà come un gatto intangenziale Perché gli metteremo Una nuova aspirazione Guardate Ha 5 di fotografia 5 di carisma 5 di canto 6 di composizione Foloreale Mi sembra giusto Il suo lavoro sarà quello Comporre fiori ragazzi Lui va d'accordo E' attivo Ama l'aria aperta Romantico Attraente Troppo bellino Prima promozione Primo fichi fichi Trovato un lavoro Qui c'è Fidanza Fidanzati Non sono ancora fidanzati Amoreggia nello stanzino Romantico Scusa Proponi le nozze Scusa ma No non proponiamo adesso Le nozze Scusate Esprimi affetto Loro stanno molto bene Gradisce l'affetto Certo che gradisce l'affetto E qui raga Andiamo a fare subito Un fai fichi fichi Con Martina Direi che è più che Necessaria Questa cosa E raga In tutto questo Raccogli Gaufre Così lo mangiamo Con il nostro Alex Va bene ragazzi Io direi che Siamo Arrivati a 20 minuti Di episodio Non facevo un episodio Così lungo Da un po' di tempo Io ragazzi Vi ricordo Come al solito Di iscrivervi al canale Attivare la campanella Mettere un mi piace E soprattutto Commentate Fatemi sapere cosa Ne pensate di questa Storia E soprattutto Di quello che ho intenzione di fare Li trasferiremo Faiz e Martina A Tomarang Non smetteremo Di giocare con Alex Ma forse Ci concentreremo Di più Su questa coppia Alex mi piace Lo sapete Il suo essere Dracqueen Eccetera Quindi non vi preoccupate Giocheremo ancora con lui E nulla Però voglio vedere Anche un po' Della nuova città Voglio vedere Questa cosa degli affitti Sinceramente Sono un po' curioso Però Vi prometto Che sarà Un gameplay Aperto Non ci dedicheremo Solo Alla nuova espansione Assolutamente No Lo sapete Non voglio più Cadere In questo Diciamo In questo Pericolo In questo errore E nulla raga Io vi mando un bacio Da Dostrade Danzo È tutto E noi ci vediamo Al prossimo episodio E mi raccomando Supportate il canale Ciao 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 Grazie a tutti.